Hai un problema con l'impianto elettrico? Si è rotto un tubo dell'acqua? Non vuoi avere brutte sorprese con il conto? Dal 16 aprile, in caso di emergenza, chiama OK Casa all'199 20 18 16. OK Casa è disponibile nel Comune di Firenze 24 ore su 24 per le riparazioni urgenti di impianti elettrici, idraulici e per i lavori edili, con tariffe prestabilite a partire da 39 euro l'ora. È un servizio della Camera di Commercio, con le associazioni di categoria e dei consumatori, i costi e tutte le informazioni. Sono sul sito www.fi.camcom.it Grazie a tutti.